Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oh mio Signore Oh mio Signore Cristo Gesù Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno Oh mio Signore Oh mio Signore Cristo Gesù Venga il tuo regno Cristo Gesù Venga il tuo regno Venga il tuo regno Venga il tuo regno C'è dentro Venga il tuo regno Venga il tuo ragno dal libro di cielo volume 21 24 maggio 1927 offerta del lavoro nel volere divino chi vive in esso forma tanti atti di vite divine possiede la virtù bilocatrice stavo facendo l'offerta del mio lavoro dicendo gesù amore mio voglio le tue manine nelle mie per dare al nostro padre celeste quell'amore quella gloria che tu individualmente gli desti con le tue opere stando sulla terra non solo ma voglio unirmi con te quando tu verbo del padre fin dall'eternità operavi insieme con lui con le stesse sue opere amavi con amore reciproco e con perfetta uguaglianza e voglio glorificarvi in quella stessa gloria con cui vi glorificaste voi stesso tra le tre divine persone ma non sono contenta voglio mettere le mie mani nelle tue per scorrere insieme con le tue nel tuo stesso volere nel sole per darti la gloria della luce del calore della fecondità del sole nel mare per darti la gloria delle sue onde del suo mormorio continuo nell'aria per darti la gloria del canto degli uccelli nel cielo azzurro per darti la gloria dell'immensità e nello scintillio delle stelle nel loro tremolio faccio scorrere la mia voce che ti dice ti amo voglio scorrere nei parati fioriti per darti la gloria e l'adorazione dei profumi non c'è punto dove non voglio trovarmi affinché dovunque tu senta che la tua piccola figlia ti adora ti ama e ti glorifica onde mentre ciò ed altro dicevo il mio dolce gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia sento in te la gloria mia il mio amore la mia vita le mie opere la mia volontà tutto accentra in te non solo ma mentre tu lavori il mio volere ti porta nel sole e lavori insieme con la sua luce sicché i tuoi emoti scorrono nei raggi solari e come si diffonde la luce tu diffondi la gloria l'amore al tuo creatore com'è bella la figlia mia trovarla in tutte le opere mie a lavorare per darmi l'amore la gloria che ciascuna opera mia contiene siccome la mia volontà possiede la virtù bilocatrice biloca anche te per poterti trovare nel mare nell'aria nelle stelle dovunque per amarti ed essere amata e glorificata dopo di ciò mi sentivo assorbita nel fiat supremo e pensavo tra me ai grandi beni che può fare la suprema volontà nell'anima nostra ed il mio sempre amabile gesù ha soggiunto figlia mia ogni atto che fa la divina volontà unita con l'anima vi forma una vita divina perché essendo essa divina non può fare a meno di formare vite divine negli atti suoi in modo che dove essa regna come l'anima opera parla pensa palpita eccetera il mio volere divino fa scorrere la sua opera la sua parola il suo pensiero e palpito in quello delle creature e vi forma prima il suo atto la sua parola e poi dal posto della sua vita divina sicché in tutto ciò che l'anima fa sprigiona da sé tante vite divine in modo che vi empie cielo e terra di tante immagini di vita divina essa diventa la riproduttrice la bilocatrice della vita divina la mia volontà non è meno potente nell'anima dove regna con la potenza del suo dominio di quello che è nel suo seno delle tre divine persone e perciò possedendo la virtù bilocatrice non solo forma nell'anima quante vite vuole ma vi forma il suo cielo i mari d'amore i prati fioriti e fa dire all'anima al suo dio cielo mai dato e cielo ti do sole mi hai dato e sole ti do mari e prati fioriti mi hai dato mari e prati fioriti ti do tutto ciò che hai fatto per me nella creazione e nella redenzione la tua volontà che ripete in me in modo che tutto ti possa dare come tutto mi hai dato o potenza della mia volontà che cosa non può fare nell'anima dove essa regna e perciò dove essa regna si diletta di metterla alla pari con noi molto più che sa che quella è la nostra volontà di volere la creatura simile alla nostra immagine ed essa nostra fedele esecutrice tale ce la rende e noi chiamiamo questa creatura dove regna il nostro fiat supremo l'amore nostro la gloria nostra la virtù nostra e solo col nostro volere può l'anima giungere a tanto senza di essa c'è tanta distanza tra creatore e creatura perciò ama tanto che il volere divino regni nella creatura per dare il largo campo d'azione alla nostra volontà di bilocare le opere nostre le nostre vite e di elevare la creatura allo scopo perfetto per cui fu creata la creatura uscita al nostro volere è giustizia che cammini nei passi della nostra volontà e che ritorni al suo creatore su quella stessa via d'onde ne uscì tutta belle ed arricchita dai prodigi del nostro eterno fiat bene ci apprestiamo questa meditazione contemplando aiutati dal signore questo nuovo mistero chiamiamo che chiamiamolo così questa nuova caratteristica che il signore ci rivela della sua volontà quando regna in un'anima e quando l'anima nella quale essa regna opera in essa si parla qui oggi di bilocazione di virtù bilocatrice e che viene partecipata alla creatura la quale come dice gesù da un lato è bilocata dalla divina volontà in tutte le opere della sua creazione si potrebbe dire anche plurilocata e dal lato essa stessa creatura biloca la divina volontà in se stessa e per diventare appunto la riproduttrice della vita divina in sé sono come solamente accade in questi scritti ecco concetti abbastanza elevati problema che non sono soltanto concetti e noi dobbiamo capire il concetto per capire la realtà non sono teorie queste cose sono cose molto reali in cui con pazienza piano piano dobbiamo cercare di entrare però penso che tutti quanti noi più o meno abbiamo sentito parlare almeno qualche volta nella nostra vita di qualche santo che si bilocava abbiamo un caso relativamente recente molto famoso che era quello di padre pio il fenomeno della bilocazione è un fenomeno assai misterioso è perché non è che una persona non lo so si trova in un certo luogo geografico come dire e poi da un'altra parte contemporaneamente ci va una sorta di duplicato no non funziona così è la stessa persona che si trova con corpo ed anima in due momenti contemporanei operando in due posti differenti questo ci può causare qualche stupore facciamo uno step successivo diamo piano piano in questo momento qualunque momento in cui io sto parlando o qualcuno sta ascoltando anche in differita si può stare certi questo penso che tutti lo sappiamo per esperienza che almeno per ora speriamo fino alla fine del mondo nel mondo ci siano diversi tabernacoli si spera molti forse migliaia forse centinaia di migliaia forse milioni dove c'è un'eucaristia consacrata cosa dice la chiesa dell'ostia consacrata dell'ostia consacrata la chiesa dice che non c'è semplicemente una rappresentazione del signore o un suo simbolo o una sua immagine ma c'è la presenza vera reale sostanziale e personale potremmo dire dello stesso gesù cristo salito al cielo e seduto alla destra del padre tale e quale così come fenomeno analogo avviene quando si celebra la santa missa che è lo stesso identico sacrificio del golgota che si attualizza in un certo momento storico unica differenza sia della presenza reale che della santa messa la presenza di Gesù nell'eucaristia non è attraverso le membra fisiche ma è legata alle specie eucaristiche e nel sacrificio eucaristico il sacrificio che si compie si compie in maniera si chiama mistico sacramentale e non cruenta ma è lo stesso ed identico sacrificio come sono possibili queste cose noi dobbiamo provare a pensarci ma anche quando noi andiamo a fare la comunione stiamo in fila ci sono diverse persone che ricevono la comunione giusto dentro quelle ostie sappiamo come la chiesa insegna che dentro ciascun ostia e dentro ciascun frammento anche infinitesimale purché visibile all'occhio umano di esso è presente Gesù Cristo tutto intero quindi attenzione quanti Gesù ci sono? uno o miliardi di miliardi quanti saranno state le ostie consagrate da adesso fino alla fine del mondo? è sempre lui? e quanto è bilocato o plurilocato? quanto? com'è possibile che si realizzi questo? noi non lo comprendiamo com'è possibile infatti dopo la consacrazione il sacerdote dice mistero della fede non lo comprendiamo nei dettagli ma sappiamo che questo per Dio è una cosa di per sé semplicissima perché? perché la divina volontà è presente con la sua potenza infinita tutto è dappertutto quindi può fare tutto e qualunque cosa può bilogare trilogare può fare qualunque cosa voglia non c'è nessun problema nella divina volontà nell'eternità la vita terrena di Gesù sta scorrendo in atto adesso così come scorre in atto la sua passione la sua resurrezione cioè il problema amici miei figlioli miei cari è che quando entriamo in contatto con Dio proprio con Dio e quindi col mistero della sua volontà noi entriamo in un orizzonte che è assolutamente trascendente dinanzi al quale siamo come dire da un lato coinvolti ma dall'altro anche travolti ma dall'altro anche sopraffatti non possiamo noi penetrare qui possiamo semplicemente ecco l'ausilio dell'intelligenza limitata che il Signore ci ha dato comprendere e percepire qualcosa allora perché Gesù fa questo discorso la divina volontà con la sua gloria qui il testo di oggi parte da un bellissimo giro che è anche una piccola scuola per chi ha difficoltà a pregare attraverso i giri qui lui si cita una piccola dritta no dice cosa fa dice voglio mettere nelle mie mani voglio mettere le mie mani nelle tue per scorrere insieme con le tue nel tuo stesso sole nel sole per darti la gloria della luce del calore della fecondità del sole cosa sta facendo Luisa allora io che sto sulla terra non è che posso entrare dentro il sole io il sole neanche non possiamo guardare soltanto con degli occhiari da sole molto molto potenti e possiamo goderne gli effetti ma il sole non è la nostra portata ma chi è che ha creato quell'astro di luce la divina volontà e come sappiamo dentro quella creazione sono depositate delle proprietà bellissime della divina volontà e di Dio stesso che noi non comprendiamo perfettamente per esempio la luce per esempio il calore per esempio la fecondità che la luce del sole dà a tutte quante le piante i fiori su cui si posano allora quell'opera in quell'opera la divina volontà ci sta così come sta in me che sono un essere umano quindi basta che io con un atto di volontà entri in essa e posso tranquillamente trovarmi nel sole posso prendere tutte le opere che la divina volontà stessa ha fatta nel sole e offrirle alla divina volontà stessa con le sue stesse opere per la sua gloria così posso fare con il mare così posso fare con qualunque cosa e attenzione dice Gesù siccome io faccio questa operazione quindi un'operazione che va alla ricerca di questa potenza infinita della divina volontà come dire reco a Dio una gloria infinita numero uno l'unica che degna di lui e in un certo senso mi biloco d'accordo perché in un istante io posso in pochi istanti posso andare a rigirare a ritrovarmi come dire se dico divina volontà ti rendo tutta quanta la gloria che tu ricevi da tutte quante le stelle cioè ma le stelle non lo sanno neanche gli astrofisici quanti ce ne stanno in giro d'accordo quindi sono trilioni di miliardi adesso io non lo so nemmeno il numero ma sono dei numeri pazzeschi se io dico al Signore nella divina volontà entro in ogni atomo creato nelle galassie in ogni particella elementare della materia di tutti i pianeti che tu hai creato nelle galassie cioè in quanti posti sono entrato cioè questo numero che nessuno saprebbe saprebbe e lo faccio in un istante chi me la dà questa potenza attenzione per andare a prendere in quell'atomo noi gli atomi che conosciamo hanno almeno un protone e un elettrone il più piccolo di tutti insomma quello un pochino più complesso c'ha il protone il neutrone e l'elettrone poi ecco ci sono anche quelli un pochino più complessi no ma cioè capito quanta che cosa abbiamo combinato con una cosa di questo genere sfugge alla nostra alla nostra capacità di comprensione e Gesù dice attenzione quando fai questo si forma una vita divina una vita divina è qualche cosa cioè quando noi parliamo di vita appunto non vorrei adesso fare una tautologia come si dice in retorica quindi dire la stessa cosa con la stessa parola quando parliamo di vita divina parliamo di vita divina cioè la vita cioè io adesso sono vivo all'essere vivo significa che c'è tutto quanto una serie di cose belle ma se sto vivo e sto in buona salute cioè insomma la vita biologica è una cosa bella è una cosa viva è una cosa equilibrata è una cosa dolce soave la temperatura è perfetta il sangue circola alla velocità che deve circolare la pressione perfetta è 80 e 120 eccetera eccetera no io ne sento il beneficio di questa se io sto bene e sto in buona salute mi sento bene quindi sento il beneficio anche se tutti questi dati magari sono ignorante non li conosco ma io mi sento bene appunto e basta anche se non so che mi sento bene perché il cuore fa 60 battiti al minuto la temperatura è perfetta la pressione è perfetta eccetera eccetera no ecco non c'ho sto bene basta allora quando si genera una vita divina vuol dire che si producono in maniera tra l'altro per noi incomprensibile e assolutamente al di là di quanto possiamo immaginarsi effetti bellissimi cioè benesseri celesti d'accordo soprannaturali divini ecco facendo queste semplici operazioni eh già facendo queste semplici operazioni quando noi ci sorprendiamo e cominciamo insomma a vedere che l'uomo vecchio come lo chiama San Paolo ricomincia a fare i capricci esperienza che facciamo forse tutti io purtroppo ogni tanto mi capita cioè ricominciano a riemergere i soliti difetti le solite modalità di fare anche quelle che sembravano superate non ci stanno i famosi risvegli ogni tanto no allora questo significa fondamentalmente due cose primo stiamo uscendo dalla divina volontà cioè le cose di cui ci stiamo occupando o il modo con cui ce ne stiamo occupando che stiamo pensando guardando operando eccetera eccetera non è conforme ai divini voleri uno secondo però quanto più queste caratteristiche dell'uomo vecchio riprendono forza vuol dire che stanno diminuendo gli atti nella divina volontà sicuramente sicuro perché è certo che non basta fare il giro nel sole e nelle stelle per vivere nella divina volontà però queste operazioni producono vita producono vita divina quindi che cosa succede che la vita divina prodotta da questi atti è come dice Gesù sbandisce spolverizza tutto ciò che c'è di umano di limitato di imperfetto di peccaminoso le nostre passioni le nostre cattive tendenze i nostri vizi ecco quindi diciamo lo strumento in più che ci dà la divina volontà rispetto alla scetica classica questo l'ho detto tante volte ma lo ribadiamo è questo che vedo che mi si riaccende il difetto della superbia dell'ira dell'impurità dell'avarizia della maldicenza del turpiloquio che ne so ognuno di noi sa i propri punti deboli dice ma come è possibile mi sembrava superata questa cosa allora la scetica classica dice rimboccati le maniche fai una buona confessione e cominci a combattere sforzati contrasta questo difetto come puoi sperando che il signore ti aiuti questo non è che siamo ancora esenti dal farlo dobbiamo continuare a farlo però le parole le cose che Gesù ci insegna ci dice fai anche un'altra cosa non prendere di petto il nemico combattendolo frontalmente specialmente quando sei debole perché sennò continuerà a vincerti continuerà a cadere non ce la fai prendilo in un altro modo cioè anziché cercare di diminuire la forza dei vizi cerca di fare il pieno della potenza di chi i vizi li distrugge è la potenza della divina volontà e come si fa a fare questa operazione è moltiplicando gli atti moltiplicando i giri certamente oltre che facendola quindi purtroppo se la nostra attenzione come succede cala o addirittura arriva a livelli bassi e noi diminuiamo il numero di questi atti inevitabilmente sentiremo ricrescere in noi appunto le le passioni dell'uomo vecchio che sono come le ceneri dell'araba fenice stanno lì se sono tenute a bada da chi è più forte di loro stanno buone ma se chi è più forte di loro come dire non le tiene più a bada perché io non sto più stretto e unito a chi è più forte di loro addio eccole che risorgono ricominciano a tormentarci e e a farci cadere in tutte le miserie umane con come dire con tutto ciò che questo comporta quindi con tutta quanta la tristezza con tutta quanta l'agitazione il turbamento la perdita della pace interiore la perdita della gioia eccetera eccetera quando poi noi abbiamo anche il nemico che osserva e che ci spia vede che le difese si sono abbassate questo credetemi che succede scatena il finimondo andando a stuzzicarti a provocarti in continuazione proprio sui punti in cui sei deboli cioè in quelli in cui se perdi l'unione con la divina volontà lui sa che ti farà a mille pezzi e comincia a giocare come il gatto col topo purtroppo vorrei non dirle queste cose vorrei poterle non dire queste cose ma a quanto sembra esperienza insomma accumulata facendo un pochino di discernimento sia per quello che accade dentro la mia vita dentro il mio cuore che nelle anime la diagnosi sembra essere questa quindi noi dobbiamo fare in modo che la divina volontà possa duplicarsi in noi e sprigionare in noi tutta quanta la sua forza potentissima in modo tale come dice Gesù che altro che se questo dovesse succedere ma ci rendiamo conto come io opero parlo palpo e pensi palpito e penso il volere divino fa scorrere nella mia parola nella mia opera nel mio pensiero il suo atto la parola e la sua vita divina ma se accade questo il diavolo non si può manca avvicinare a noi quindi e le passioni devono stare buone devono stare non hanno la non hanno l'autorizzazione non hanno la possibilità non hanno il potere di riaccendersi e di ricominciare a fare pasticci non lo possono fare ecco perché tutto quanto il segreto consiste in questo allora non bisogna mai farsi prendere dallo sconforto dalla depressione se c'è un momento di calo noi purtroppo con la nostra povera natura umana così piena di imperfezioni e di miserie dobbiamo metterli in conto non è un problema dicono i maestri di spirito cadere il problema è non rialzarsi e se cadiamo 400 volte 400 volte ci dovremmo rialzare con pazienza e perseveranza è una grande mortificazione è una grande fatica doversi rialzare dalla caduta anche dover come dire ammettere che siamo caduti che siamo caduti dover subire la mortificazione della caduta stessa ma senza starsi eccessivamente a colpevolizzare certamente facciamo un atto di contrizione un atto di pentimento ma sempre non cessando di volerci bene insomma perché noi come non conosciamo l'immensa potenza e l'immensa grandezza della divina volontà non abbiamo un'idea adeguata qui noi ascoltiamo quello che dice Gesù a bocca aperta lo facciamo nostro ma da qui ad avere un'idea adeguata ci passa un po' e non abbiamo neanche però una conoscenza adeguata dell'abisso della nostra miseria e della nostra debolezza Giova ricordare a questo riguardo le parole che Gesù disse a Santa Faustina non le dimenticherò mai il diario di Santa Faustina l'avrò letto 30 anni fa ma quando lui gli disse se tu conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria moriresti di dolore io quando le essi quella cosa dico andiamo bene se Santa Faustina dice così figurata a me no ma il problema è che anche il santo il santo è santo per la presenza della grazia in sé perché certamente la coltiva ma la fa crescere ma se Dio leva le mani e ci lascia a noi stessi precipitiamo nel baratro perché da noi stessi noi siamo questo le esperienze di caduta adesso in questi giorni di settimana santa già nella messa di ieri no si contempla certamente l'orrore di Giuda che non ha niente a che fare con la debolezza quello riguarda la malizia ma Giova pensare ricordare la debolezza di Pietro ma non solo la debolezza di Pietro il fatto che lui pensava di non averla non era consapevole io vengo con te in prigione alla morte ma che dici darò la mia vita per te attenzione che lui ne era convinto di questo attenzione alle nostre convinzioni quando siamo troppo convinti specialmente su noi stessi sei sicuro di conoscerti così bene sei sicuro delle volte dicono maestri di spirito certamente Dio non voleva che Pietro facesse quello che ha fatto attenzione ma anche quella è stata una cosa divinamente permessa perché attraverso quel capitombolo che ha assegnato a vita San Pietro ha conosciuto la sua debolezza con quella botta che ha preso prima di sparare a zero o di mangiarsi vivo lui che doveva essere il pastore della chiesa qualche povero cristiano caduto in qualche capitombolo ci deve pensare centomiliardi di volte perché altrimenti poi il nostro signore dice infatti mangi vivo a questo ti devo ricordare quello che hai fatto il giovedì santo perché se fai così te lo ricordo se non fai così me lo dimentico ma se fai così te lo ricordo però ma generalmente quando succedono queste cose non c'è bisogno che il nostro signore intervenga in questo modo perché chi le vive se le ricorda molto bene e questo lo aiuta anche a ad essere più indulgente più misericordioso ecco c'è un bellissimo libro che si chiama l'arte di trarre profitto dai nostri peccati e dalle nostre cadute un libro da leggere di Gian ti so che può essere di grande conforto e di grande consolazione anche a tutte queste cose Bene, Sant'Aggine, rientriamo in questo giorno. Oggi questa meditazione cade nel giorno molto forte del Mercoledì Santo. Riceviamo questo fiotto di luce dal cielo, come sempre. Per questo segreto, per combattere anche le nostre debolezze e per dare a Dio l'amore e la gloria che Egli merita. Aiutaci a vivere intensamente questo giorno e questi giorni e a camminare senza mai scoraggiarci, nonostante ogni caduta, nelle vie del divino volere, per giungere quando Dio vorrà a vivere perfettamente in esso. Nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria